Negli ultimi decenni i consumi mondiali di acqua sono aumentati di quasi dieci volte. Circa il 70% dell'acqua consumata sulla terra è impiegata per l'uso agricolo, il 20% per l'industria, il 10% per gli usi domestici. L'uso agricolo dell'acqua è quello che incide di più sullo sfruttamento idrico complessivo e la previsione è che aumenti esponenzialmente negli anni a venire, soprattutto per via della crescita demografica continua. La quantità d'acqua impiegata nell'industria dipende da numerosi fattori, quali il tipo di attività e le tecnologie utilizzate. Anche quello industriale è un settore in espansione, soprattutto nei paesi in via di sviluppo che spesso fanno uso di tecnologie obsolete e inquinanti. Gli usi civili dell'acqua sono finalizzati all'alimentazione umana, alla preparazione del cibo, alla pulizia della persona e degli ambienti. In questo caso non conta solamente la quantità di acqua che viene messa a disposizione, ma anche la sua qualità. In Italia il settore agricolo assorbe il 60% dell'intera domanda di acqua del paese, seguito dal settore industriale ed energetico con il 25% e dagli usi civili per il 15%. Grazie. 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 Grazie.